perché venivamo noi giovani dalla caduta del muro di berlino che ci dava tante speranze tre anni prima e solo dopo tre anni neanche dopo due anni e mezzo vedere due un martirio ecco la parola giusta di due eroi come falcone borsellino ci ci addolorò tantissimo e però non ci spense le speranze perché anche all'università si parlava molto di questo e forse credo che in italia un risveglio della coscienza civile del popolo nel senso più ampio ci sia stato attraverso questo poi che le istituzioni invece non abbiano come dire corrisposto questo risveglio civile e che magari facciano semplicemente un osseguio alla nave della legalità no a tutte queste come dire sì queste manifestazioni di osseguio formale alla memoria di suo fratello e di giovanni falcone è un altro discorso eh purtroppo la storia italiana dicevo prima eh il nostro ospite diciamo eh giornalista appunto e adesso continuerà la l'intervista la storia italiana è stata caratterizzata forse proprio da questo da una mancanza no di un senso dello stato e del rapporto tra cittadini e stato in cui la mafia si infiltra si insinua e e perché perché ovviamente soprattutto nelle regioni del sud eh in sicilia in campania in calabria dal 1860 70 in poi c'è stata qualcosa che non ha funzionato nel rapporto tra tra proprio di come si è posto lo stato e la mafia si è inserita in maniera della ginestra e poi esatto esatto dalla strage di portella della ginestra c'è stato un una fessura che è diventata un canale una valle e che ancora oggi noi stiamo come dire cercando di sanare però ecco io devo purtroppo abbandonare per motivi di lavoro la 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 riunione e ci tenevo a salutare a ringraziarla e a sperare magari che ci siano anche altri incontri perché veramente eh riascoltare le sue parole e la narrazione dei quei terribili giorni tocca il cuore però fa ancora di più risvegliare la coscienza civile grazie tanto veramente eh per questa sua disponibilità grazie di cuore io la ringrazio per le sue parole che sono state indirizzate nel senso giusto purtroppo lo stato si è sempre servito dalla mafia per fare i lavori sporchi diciamo così e il muro di berlino è stato un punto di snodo fondamentale è stato un punto di snodo fondamentale perché fino a quel momento c'era il pericolo comunista e quindi la mafia lo stato si serviva della mafia per e non non solo lo stato ma anche purtroppo i servizi segreti la CIA si servivano della mafia per avere un alleato contro contro il pericolo comunista come viene chiamato nel momento in cui col muro di berlino questo pericolo cade le cose cambiano e succede tutto quello che è successo è una conseguenza proprio della caduta di quel muro quello che è successo nel nostro paese eh strage di capaci strage di ramedio e tutto il resto grazie del grazie veramente a lei grazie a tutti i ragazzi a a chi conduce questa intervista perché sono veramente momenti importanti buona giornata confronti con le domande una delle lezioni che ci hanno lasciato forse che un uomo può cambiare le cose, nonostante le difficoltà, nonostante sia a un prezzo altissimo, se un uomo fa il suo dovere, va incontro ai problemi e non si arrende mai, può cambiare le cose, perché comunque il maxiprocesso è stato un risultato storico dell'impegno di uomini coraggiosi, tante volte lasciati da soli, prima di Giovanni Falcone, del Polo Bolseno, tanti altri, sono tali di loro, colleghi, amici, poliziotti, magistrati, anche giornalisti, e sono questi uomini che hanno portato avanti un passo storico per la democrazia italiana. E anche dopo tutti questi mafiosi, i clan di Corleonesi, tanti altri, sono stati sconfitti, sono finiti in prigione. Ovviamente ancora c'è tanto lavoro da fare, soprattutto capire tutta questa parte oscura, i momenti che ha dato gli ordini, le sue complicità, ma il suo lavoro, il suo sacrificio è servito a qualcosa. Penso proprio che sia così. Parlando del maxiprocesso di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone, non si può non parlare di un altro magistrato, il magistrato Rocco Chinnici, che fu l'ideatore del pool di Palermo e fu quasi il padre, del pool di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Rocco Chinnici, lo dico ai ragazzi che non lo conoscono, probabilmente non lo hanno mai neanche sentito nominare, era il capo della procura di Palermo negli anni Ottanta, e Rocco Chinnici ebbe un'intuizione, nel senso che fino a quel momento c'erano stati altri processi di mafia, però si erano sempre conclusi non con i risultati che poi sono stati ottenuti nel maxiprocesso. perché? Perché c'era un singolo magistrato che portava avanti quei processi. Questo che cosa significava? Che un magistrato, il singolo magistrato, poteva essere ucciso, poteva essere comprato, poteva essere intimidito, ed era purtroppo quello che è successo. Esistono dei casi di magistrati che sono stati corrotti e del caso di tanti magistrati che sono stati uccisi. e ogni volta bisognava ricominciare da capo, se un solo magistrato aveva incarico quel processo. Rocco Chinnici ebbe l'intuizione che invece, avvocando a sé, al capo della procura, il processo, avvocando significa pigliandosi l'incarico lui, e poi affidandolo a un pool di magistrati, un insieme di magistrati che poi portassero avanti quel processo, anche se uno poteva essere comprato, uno intimidito, un altro ucciso, il processo poteva in ogni caso andare avanti. E Rocco Chinnici venne ucciso, anche lui, con una macchina carica di esplosivo, posto davanti al portone di casa sua. Fu un colpo terribile per mio fratello Paolo, perché Rocco Chinnici era quasi un padre per lui. Nostro padre era morto giovane, a 52 anni, e Paolo non aveva neanche un rapporto molto forte con il nostro padre. Per cui Rocco Chinnici era per lui il secondo padre, veramente. Rocco Chinnici fu lui che ebbe l'idea di questo pool, e fu lui che affidò dei processi di mafia a Paolo Borsellino, a Giovanni Falcone, i quali fino a quel momento si erano occupati soltanto di giustizia civile, non di giustizia penale. Questo era quello che è riuscito a fare Rocco Chinnici. Quando venne ucciso, un giudice siciliano, il giudice Caponnetto, che era un giudice che era siciliano, ma lavorava a Firenze, alla procura di Firenze, chiese di essere trasferito a Palermo e fu lui poi che portò avanti il pool di Palermo e quel maxiprocesso che venne condotto dal pool di Palermo, dei quali facevano parte Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, il giudice Dilello e il giudice Guarnotta, i quali, grazie alla collaborazione di Tommaso Buscetta, riuscirono a portare avanti quel processo. Quel processo finì, diversamente dagli altri che c'erano avvenuti fino a quel momento, finì con delle condanne, con centinaia di ergastoli combinati agli imputati di quel processo. Però poi la sentenza di appello riformò quelle sentenze, in parte annullandole. Durante il processo, Tottor Righina, che allora era latitante, diceva ai suoi accoliti, dicevano state tranquilli perché poi si aggiusta tutto, perché questo era avvenuto in tanti altri casi. C'erano i processi, venivano in alcuni casi combinate dalle condanne, ma poi c'era un giudice a Roma, alla Corte di Cassazione, il giudice Carnevale, che veniva chiamato l'ammazza sentenze, il quale alla Corte di Cassazione annullava tutti quei processi, annullava quelle condanne. Aveva annullato addirittura 300 condanne di processi di mafia che si erano svolti nel nostro paese. Dopo il maxiprocesso e il favore che avevano in quei giorni Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, che venivano soprattutto all'opinione pubblica, considerati veramente, anche se ancora non erano stati uccisi, degli eroi, perché avevano veramente attraverso quel maxiprocesso, veramente avrebbero potuto sconfiggere la mafia. Dopo vennero però dei giorni diversi in cui a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino cominciarono a essere attaccati anche dal resto della magistratura. Giovanni Falcone, pensate, dovette lasciare la magistratura e andare a lavorare a Roma, al Ministero degli Affaggiri Penali, perché nel momento in cui Caponnetto, Nino Caponnetto, il capo del PUL, dovette per limiti di età andare in pensione e avrebbe dovuto sostituirlo, il suo naturale successore era Giovanni Falcone, il CSM, che è l'organo di autogoverno della magistratura in Italia, mise al suo posto invece un oscuro consigliere per ragione di anzianità, si chiamava Meli, il quale cominciò a sfaldare il PUL, a distruggere il PUL. A Giovanni Falcone venivano assegnati dei processi da nulla, dei processi per abusi edilizi, per furti, e Giovanni Falcone dovette addirittura lasciare la magistratura ed andare a lavorare con il Ministro Martelli all'ufficio degli affari penali. Lì però che cosa fece? Riuscì a fare monitorare le sentenze del giudice Carnevale, quel giudice che vi ho detto che mi aveva chiamato ammazza sentenze, e lì fece passare un criterio di rotazione, per cui non doveva essere più la stessa sezione della Corte di Cassazione a giudicare i processi di macchia, ma una rotazione. E fu così che la Corte di Cassazione riformò la sentenza della Corte di Appello e furono confermate le condanne agli ergasteri che erano state combinate nel macchisi processo. A questo punto Totorina, che fino a quel momento aveva detto state tranquilli ai suoi accoliti, aveva detto state tranquilli perché poi si è giusta tutto, perché in effetti fino a quel momento tutto si era sempre aggiustato appunto attraverso gli accordi tra mafia e politica, attraverso queste infiltrazioni nella magistratura, a questo punto la mafia Totorina decise che la politica non aveva mantenuto i patti, patti che evidentemente fino a quel momento c'erano stati tra mafia e politica. e allora scatenò la guerra, decise di vendicarsi di quei politici che non avevano mantenuto i patti e viene ucciso Salvo Lima. Viene ucciso Salvo Lima che era il vicere di Andreotti in Sicilia, di quell'Andreotti che voi l'avrete sentito nominare, era stato il capo del governo in Italia per più legislazioni, che però aveva anche lui collaborato con la mafia, tanto che in un processo che si svolse poi venne condannato, anche se poi la condanna cadde in prescrizione e quindi non era andato mai in galera. Salvo Lima era il vicere di Andreotti in Sicilia, quello che gestiva la sua corrente politica e uccidendo Salvo Lima venne impedito l'ascesa alla Presidenza della Repubblica di Giulio Andreotti che in quei giorni stava per essere per eletto Presidente della Repubblica. Questa fu la vendetta della mafia nei confronti dei politici. E poi c'era nella lista di Riina tutta un'altra serie di politici che dovevano essere uccisi per vendicarsi del risultato del maxiprocesso. E allora è da lì che nasce la trattativa, perché alcuni di questi politici per il terrore della vendetta di Riina era stato già ucciso Salvo Lima, adesso toccava a loro, si rivolsero a dei servizi deviati in Italia per trattare con la mafia, per non essere uccisi. Da lì nasce la trattativa, questa è la genesi della trattativa stato-mafia e di quello che poi portò anche alla strage di Via Lamello, perché Paolo questa trattativa si era opposta e con Paolo in via questa trattativa non sarebbe mai potuto andare avanti. Sì, una lettura della storia che noi non leggeremo mai sui libri questa. Io per questo noi la ringraziamo di questo, perché anche non sempre si legge sui giornali una sequenza storica così chiara. E adesso ci sono dei ragazzi che vorrebbero direttamente e farle delle domande. Sì, grazie. Vieni più vicina. Vieni, vieni. Dai. È Carla, presentati. Buongiorno, io sono Carla. Ciao. Le volevo chiedere se dopo l'amore di suo fratello lei ha continuato a difenderlo e a far ripresere la gente e non ha avuto anche lei paura di inserire la principale della morte. Grazie. Spero di essere riuscita a capire bene la domanda. Allora, dopo la morte di mio fratello, io devo raccontarti perché sono qui, perché sono qui a parlare con voi. Vieni, dopo quel giorno, quella domenica, quel 19 luglio, Paolo era andato a casa di nostra madre perché doveva accompagnarla per una visita cardiologica da un suo amico medico. e la mattina Paolo telefona a nostra madre per dirgli mamma, preparati che alle 5 ti vengo a prendere. Il telefono della casa di nostra madre che abitava insieme a mia sorella era stato intercettato. Chi ascoltò quella telefonata seppe che Paolo il pomeriggio sarebbe andato a trovare la nostra madre, a prendere la nostra madre e allora poterono togliere quella 126 carica di esposivo che era stata messa per occupare il posto davanti al portone della casa di Via D'Amelio e la poterono sostituire con una macchina che è una 126 che durante la notte in un garage di Palermo era stata riempita di esplosivo l'esplosivo che venne utilizzato per l'attentato. Mia madre ebbe sentì suonare il campanello di Paolo alle 5 del pomeriggio che era andata a trovarla e in quel momento sentì quell'esplosione che lei sapeva che le portava via il figlio. E' la cosa più terribile che possa succedere per una madre vedere morire il figlio prima di lei e contro natura e contro natura anche se tutti sapevamo quello che sarebbe successo. Nostra madre era una donna fortissima. Senza nostra madre Paolo non sarebbe stato quello che è stato e con nostra madre Paolo aveva un rapporto come tutti i figli aveva un rapporto particolare. Ecco, nostra madre che io credo sarebbe voluta morire nel momento stesso in cui sentì quell'esplosione invece il giorno dopo chiamò i figli che le restavano chiamò me chiamò mia sorella Rita eravamo in quattro fratelli adesso sono rimasto solo io e ci disse questa parola ci disse adesso da oggi voi dovete andare dappertutto dovunque vi chiamino per non fare morire il sogno di Paolo così ci disse ed è per questo che io sono qui per questa promessa fatta allora a mia madre di non far morire il sogno di Paolo che era nient'altro che un sogno d'amore e non vi sembri strano che io vi parlo d'amore parlando di un magistrato perché l'amore è stata una cosa fondamentale nella vita di mio fratello mio fratello è morto per amore e voglio dire attraverso una frase che io ho fatto scrivere nella prima pagina di questa agenda rossa che oggi rappresenta l'arma un'arma di lotta per noi che a trent'anni di distanza ancora cerchiamo verità e giustizia questa è la frase più bella di Paolo che parla di tutta la sua vita Paolo dice Palermo non mi piaceva per questo imparai ad amarla perché il vero amore consiste nell'amare e ciò che non ci piace per poterlo cambiare vedete una frase di nemmeno venti parole eppure per tre volte Paolo pronuncia la stessa parola la parola amore e io credo che mio fratello sia morto per amore perché mio fratello era coscio di quello che sarebbe sarebbe successo sapere che doveva morire e poteva fuggire poteva andare via poteva scappare e invece è rimasto lì a Palermo sapendo quello che era il suo destino ed è rimasto sapete perché? perché Paolo ritengo sapesse era conscio del fatto che soltanto attraverso la sua morte avrebbe potuto svegliare le coscienze degli italiani e le coscienze soprattutto dei giovani Paolo per questo è morto è morto sapendo di dover morire e ha scelto di morire e questo in questo si può essere in una scelta così forte così determinante così terribile non può essere altro che l'amore a guidarci ed è l'amore che ha guidato Paolo ecco io sono qui perché ho fatto quella promessa a mia madre e quella promessa manterrò fino all'ultimo giorno della mia vita come Paolo credevo nei giovani io credo in quei giovani e credo soltanto che come diceva Paolo soltanto un completo ricambio generazionale potrà cambiare le cose Paolo diceva quando la gioventù le negherà il consenso anche la terribile e misteriosa mafia sparirà come un incubo Paolo ripeto credeva in voi giovani ed è morto lasciando il testimone in mano a voi giovani e io sono sicuro che un giorno sarà proprio un completo ricambio generazionale una rivolta dei giovani a poter cambiare veramente le cose e a sconfiggere le mafie mi chiede la vostra compagna se io se abbiamo mai avuto paura essendo fratelli per Paolo che anche con Paolo diceva diceva e lo diceva anche Giovanni Falcone quando gli chiedevano se se avessero paura e rispondevano in questa maniera dicevano certo che abbiamo paura saremmo degli incoscienti a non avere paura l'importante che però ci sia insieme alla paura anche il coraggio che serve per non lasciarsi condizionare dalla paura ecco con avendo un fratello come questo non ci possiamo permettere di avere paura non ne abbiamo tant'è vero che mia sorella è rimasta ad abitare lì proprio in via D'Amelio dopo che è stata ricostruita quell'appartamento che era stato completamente distrutto dalla esplosione è rimasta lì in via D'Amelio per testimoniare proprio la nostra presenza per testimoniare che noi siamo lì che non ci arrenderemo mai e mia madre ha voluto che nella buca scavata dall'esplosione in quello che era diventato un luogo di violenza e di morte fosse piantato un albero di olivo che fosse invece simbolo di speranza e simbolo di pace è stato piantato proprio nella buca scavata dall'esplosione nella terra che è stata incisa del sangue di quei di quei non è morto soltanto Paolo del giorno e nostra madre ci ha fatto giurare che ogni volta che avessimo pronunziato il nome di Paolo avessimo pronunziato anche il nome di Agostino di Claudio di Emanuela di Vincenzo di Eddie i cinque servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita insieme a Paolo sapendo che fare della scorta a Paolo significasse significava poter rischiare la morte ecco anche quei ragazzi avevano paura sicuramente ma avevano anche il coraggio necessario per affrontare anche loro quella paura io dico sempre ragazzi che oggi siamo un po' più liberi meno schiavi e abbiamo ancora dei diritti e grazie a quanti hanno lavorato e lavorano ancora a quello Stato che funziona a quello Stato che va avanti poi c'è un Stato che è un po' distratto e quindi ascoltiamo adesso una domanda da parte di Giulia ciao Giulia allora la domanda quando tutti dicono che la giornata rossa la tema dei macchie ma qualcuno che sono uscito da un stilino la state dando la sposta per cui potete ripetere la domanda per favore perché non l'ho sentita bene con la mascherina magari me la fai ripetere dal giornalista o dal o dal professore perché non con la mascherina non si riesce a sentire bene ho sentito che parlavi dell'agenda rossa però non ho capito esattamente che cosa dicevi sì forse se siamo giornalista cosa dice sì più o meno ha chiesto che chi ha l'agenda rossa che si dice che ce l'hanno dei mafiosi ma lei dice che forse ce l'ha qualcuno che vuole anche proteggere qualcun altro no? questa è un po' sì chi può avere la la certo certo no Giulia ti ringrazio di questa domanda perché è una domanda molto molto profonda nel senso che sicuramente non ce l'hanno i mafiosi vedi non era i mafiosi che interessava fare sparire quell'agenda rossa non era i mafiosi tutto quello che c'era scritto in quell'agenda rossa allora devo spiegarti questo per la mafia la trattativa è stata un'elevazione di stato cioè se uno stato arriva a trattare con la mafia vuol dire che considera la mafia come se fosse un qualche cosa alla sua altezza al suo livello quindi quello che ci poteva essere scritto su quell'agenda ed era la cosa principale era sicuramente la trattativa le altre cose riguardavano la rivelazione dei collaboratori di giustizia che erano l'infiltrazione della mafia all'interno dello stato e non era sicuramente alla mafia che interessava fare sparire quell'agenda e chi interessava fare sparire quell'agenda a chi aveva portato avanti quella trattativa quella trattativa che non doveva arrivare all'opinione pubblica te l'ho detto che se allora fosse venuto fuori l'esistenza della trattativa sarebbe scoppiata la rivoluzione la rivolta civile in Italia quindi non è sono sicuramente i mafiosi che hanno quell'agenda quella agenda è stata sottratta dai servizi deviati dello stato dai servizi segreti deviati e sicuramente è ancora in mano a quei servizi perché su quell'agenda si basano dei ricatti incrociati e reggono purtroppo forse ancora oggi gli equilibri di questa disgraziata nostra repubblica nostra repubblica italiana sono è lo stato deviato lo stato corrotto lo stato assassino lo stato complice della mafia che ha in mano quell'agenda o recentemente c'è stato un non è neanche un collaboratore di giustizia ma un certo Baiardo che è quello che ha protetto l'altitanza dei Graviano quando erano qui in Piemonte il quale ha detto che delle copie di quell'agenda sono in mano a Matteo Massina Denaro che oggi è il nuovo capo della mafia di cui che anche oggi